cari amici buonasera bentornati qui su life new e ricominciamo con le nostre dirette siamo da soli siamo io e voi e a grande richiesta diciamo io questa puntata questa diretta dedicata a roman che è uno della nostra chat che segue le nostre dirette che ha richiesto di parlare di metatron io lo ringrazio perché se mi ritiene opportuno se mi tiene opportuno che io sia all'altezza di parlare di metatron io lo ringrazio e allora questa diretta è dedicata a lui e anche a voi però in particolare alla persona che ha fatto la richiesta se avete ulteriori richieste da fare noi abbiamo la chat telegrama possiamo parlarne detto questo non mi limiterò solamente alle seggesi come voi sapete io le seggesi biblica la rispetto la seguo ma non ho intenzione di fare una diretta solamente su questo perché è qualcosa di tedioso anzi ci sono dei biblisti che possono parlarne meglio di me ci sono dei libri che ne parlano ampiamente in una maniera esponenziale con dovizia di particolari e quant'altro cose che io in una diretta di un'ora non posso fare perché metatron è un angelo un arcangelo un serafino molti lo chiamano super arcangelo estremamente complesso nonostante non ci sia tantissimo però nella nella torà e quant'altro se ne parla perché è la figura che è complessa non è proprio tutto quello che è stato scritto c'è da dire un'immensità quindi in una diretta di un'ora sarà veramente complicato intanto saluto tutti gli amici vedo che la diretta già sta andando tranquillamente vedo che c'è già tanto seguito quindi potrei già iniziare fatemi fare le premesse dicendo appunto che non è facile parlare di un di una figura archetipale così importante non mi limiterò solamente a fare una normale spiegazione vi darò la mia considerazione in chiave simbolica alla fine alla fine trarò le somme di tutto il discorso che è stato fatto c'è tanto da dire ed è perché è così importante perché metatron all'interno diciamo dell'esegesi biblica delle della storia possiamo dire delle religioni perché se ne parla soprattutto nella bibbia nell'antico testamento e anche nel talmud non solo nella torà abbiamo tanto da dire partiamo inizialmente con la figura intanto non è un arcangelo come tutti gli altri le figure più importanti gli arcangeli più importanti sono quattro sono michele raffaele sono uriel e tanto vi saluto grazie mamma mia già quanti siete e quindi dicevo michele gabriere raffaele uriel questi sono i quattro diciamo arcangeli che si occupano anche di di essere facenti funzioni all'interno sulla terra non sono solamente vicino al cospetto di dio si occupano addirittura di avvisarlo di qualsiasi cosa accade nella terra partiamo intanto dalla figura per capire metatron dobbiamo partire direttamente da enoch chi è enoch enoch è un patriarca e il papà di matusalemme il nonno di lamech è il bisnonno di noè accade tutto qui nel 1656 diciamo dell'anno biblico accade qualcosa sia i quattro angeli del diciamo i quattro alcangeli come ho ho enunciato prima si accorgono che la terra qualcosa non va i rin cosiddetti grigori anche in greco che significa vigilanti e custodi coloro che dovevano controllare la la civiltà umana diciamo non fanno il loro lavoro si corrompono incominciano ad accoppiarsi addirittura con le donne umane creando dei ibridi cosiddetti nefilim giganti e la bibbia ne parla ampiamente ne hanno parlato tutti che sono i giganti sono esseri forti con sei dita sono molto predisposti alla guerra e quindi questi irin si fanno corrompere e allora fra di loro ci sono semi asa che sono è un angelo ormai corrotto e poi abbiamo anche azare azazer che è un altro angelo di valenza importantissime dove purtroppo non fanno più il loro mestiere quindi partiamo già che sta avvenendo qualcosa la terra è corrotta gli angeli vigilanti si sono corrotti quindi qualcosa bisogna fare si va da dio si va da dire si dice qualcosa sulla terra non va cosa facciamo in quel momento già dio ha un piano dice portatemi enoch fatelo salire nel mio mondo portatelo da me e il momento in cui farete questo viaggio lo porterete da me io saprò già quello che dovrò fare questo è un mistero per tutti per gli arcangeli e cosa fanno allora partono arioc e marioc che sono dei possiamo dire dei unici irin ormai rimasti che non sono corrotti gli unici gregori questi angeli che erano vigilanti chiamiamoli così questi vigilanti e vanno a chiamare enoch enoch significa colui che cammina con dio e da qui già iniziamo a capire che c'è un predestinato quindi la differenza fra un predestinato e uno che fa il suo destino un uno qual è che già dalla nascita capiamo che enoch colui che cammina con dio ha qualcosa che deve un compito una missione che ha nel suo mondo si dice enoch si via colui che cammina con dio quindi alla fine può essere pure che durante l'asso della sua vita lui visse per 365 anni e devo dire che tutte diciamo le sue parentele quello che ha vissuto meno se consideriamo che matusalemme quanto ha vissuto o la mefia che ha vissuto 777 anni e 936 anni così ad amo quindi lui è un giovinetto in confronto a tutti i patriarca siamo prima del diluvio universale quindi si stanno preparando a quello che avverrà dopo quello che dovrà fare noi siamo in questo momento attenzione che ogni parola dovete memorizzarla io la dirò lentamente perché il fattore è estremamente complesso lo capisco cosa succede praticamente enoch viene chiamato anche nella leggenda con lui l'uomo che è diventato dio spiegherò anche il perché di tutto ciò sono due le figure che sono diventati angeli sono diventati elia ed enoch sandal for è diventato elia enoch e metatron parleremo di metatron poi se c'è tempo magari su elia qualcosa bisogna dire cosa succede praticamente vanno a prendere elia questi due angeli arioc e mario che li vanno a prendere lo portano proprio fianco su fianco e lo portano praticamente in cielo e lui comincia a vedere dei mondi mondi di fantasia mondi immaginari sono simili ai mondi che vedeva giordano bruno sono simili ai mondi che vedeva pietro perché anche pietro nella sua apocalisse vide cosa del genere poi le domande le guarderò tutte dopo non vi preoccupate sarà ci sarà anche tempo per le domande cosa accade praticamente accade che elia praticamente enoch racconta di vedere mondi incredibili mondi meravigliosi addirittura vede praticamente inizialmente vede mondi fantastici cose che non aveva mai visto subito dopo riesce a vedere i cerchi i famosi dieci cieli di dio che sono dei cerchi un po come un viaggio dantesco del paradiso ne abbiamo già parlato questi cerchi sono i motori mobili che creano sono legati alla visione divina quindi è una propagazione un'emanazione di quello che è dio costituito da angeli quindi cosa succede nel momento in cui sta incontrando praticamente altri angeli che sono i sette arcangeli questi sette arcangeli gli fanno vedere addirittura praticamente dei luoghi luoghi dove c'è dove ci sono come posso dire dei dei gregori ci sono ci sono dei delle gente dannata ci sono dei diavoli ma non diavoli non se ne parla sono angeli che si comportano come diavoli e questa è la cosa complessa la cosa difficile è che nel paradiso viene viene descritto una una sorta di inferno un inferno per metà gelido con delle lingue di fuoco e questo è complesso nell'esegesi ebraica di riuscire a far capire che cosa sta vedendo e no che praticamente vede un paradiso che sta al centro della terra perché lui dopo tutti questi mondi che vede ritorna di nuovo al centro della terra e vede e vede lo cosiddetto scelò che viene chiamato anche abbandon parola che conosciamo benissimo perché quando noi diciamo abbandonare i cani ecco da dove viene è un'etimologia ebraica che significa inferno è un limbo un posto bruttissimo dove gli angeli si comportano come diavoli e puniscono tutti quelli che hanno tradito dio tutti i gregori corrotti ma ci sono ancora dei gregori in questo mondo dove non sono ancora non sono del tutto corrotti stanno lì a pensare e dire certo noi facciamo parte della stessa categoria di quelli di coloro che hanno tradito in questo momento qua cosa accade praticamente devo raccontarvi un piccolo preambolo quando i quattro angeli vanno da dio dio già gli dà un compito ognuno tipo a michele gli dice vada segnata che è un altro angelo e lo devi sconfiggere che il capo dei corrotti poi dice a gabriele di mettere zizzania all'interno dei nefilim e farli agguerrire fra di loro c'è un'altra cosa ha invece raffaele che il cosiddetto medico ma in realtà in quel momento ha delle altre funzioni prende azzare e lo mette in carcere infatti e noc incontra nel paradiso questo azzare che questo agelo caduto e le etimologie le pronunce sono tante azzar azzar cioè seconda ovviamente del io lo chiamo azzar azzar dipende come lo potete chiamare voi lo trovate in tanti modi allora che succede lo trovo in prigionia e gli dice questo angelo caduto sai io ho fatto un po' arrabbiare dio ci vuoi mettere una buona parola e lui dice praticamente dal dio parla con enoche fa non ti permettere questa questo angelo deve essere punito a vita deve rimanere in questo abbandono in questo salò e lui ci rimane purtroppo invece cosa fa uriel va da lamech lamech che il nipote sulla terra è il nipote di enoch nonché il possiamo dire il figlio di mattusalemme lamech viene annuncia uriel questo arcangelo gli dice che si deve preparare perché fra non molto arriverà il diluvio universale quindi chiude il cerchio perché perché a lamech lamech è l'ottavo patriarca più importante in scala e l'ottavo quindi l'ottava chiude il cerchio sempre questo questo otto c'è sempre ricorrente e lamech muore cinque anni prima del diluvio universale avendo raccontato ai suoi figli quello che accadrà quello che anno è anticipandolo e muore cinque anni prima a 777 anni attenzione che per le numerologie per la cabala sono importantissime ma non stiamo qui a spiegarle sarete voi a fare delle relazioni magari di postume detto questo gli angeli hanno creato hanno piazzato ormai le strategie per cercare di iniziare il diluvio che è la cosa più importante tutto è corrotto dio decide di fare questo progetto di iniziare questo progetto con questi arcangeli e dice mentre voi fate portare e no verso verso di me facendogli vedere tutto il mio creato tutto quello che ho creato poi lo portate da me e voi nel frattempo vi occupate di questo iniziate a piazzare la strategia tu vai a prendere il capo in grado tu vai a prendere l'angelo corrotto più forte tu vai a mettere zizzania fra di loro e farli litigare infatti gabria è fantastico perché consigliandoli fra di loro si litigano e i nefilim non sono adatti alla guerra e invece la mecca cosa fa va fuori dal tempo vai in un altro tempo in un altro spazio e va a parlare con la mecca e quasi evince una cosa importante che gli angeli hanno la capacità di passare lo spazio tempo quindi quando comunicano qualcosa da qui si evince che vanno fuori dal nostro spazio tempo perché lui va in un altro un'altra epoca un altro momento a dirgli a fare una previsione alla mecca di quello che avverrà quindi che succede siamo finalmente arrivati al cospetto di dio scusatemi se l'ho fatta breve ma c'è tanto raccontano tantissimo e allora arrivano gli angeli corrotti e poi arriva c'è tutta una storia che non vi sto a dire cosa è la cosa più importante quale cosa ci interessa a noi a noi interessa che metatron come come si ci arriva metatron si arriva con enoch quando finalmente dio ha davanti che dice quest'uomo avrà la possibilità di diventare come me e riuscirò a mettere il mio nome all'interno il mio nome al suo interno facendolo diventare come me ora tutti gli altri angeli incominciano a dubitare di questa storia ma che sta succedendo c'è un mortale umano che diventa superiore a noi allora di che cosa cosa sta accadendo poi ve lo dirò in chiave simbolica si capisce tutto per adesso è tutto un po confusionale allora michele si mette a cospetto michele raffaele uriel i quattro angeli gabriele si mettono a cospetto e finalmente dio dice tu dovrai diventare il mio scriba va a prendere un trono lo mette accanto a lui dice da oggi in poi tu diventi il mio scrivano tu le racconterai tutta la cronostoria del passato il presente futuro mio e diventerà il più grande di tutti in quel momento perché io devo terminare la corruzione che c'è nella terra devo far finire il mondo in quel momento michele e michele e uriel iniziano a piangere ma perché proprio michele e uriel perché sono quelli più vicini al creato di dio quello che lo illuminano quelli che interagiscono con 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 loro proprio e quindi piangono per il sacrificio che verrà fatto allora cosa succede in quel momento è non che si trasforma ma viene trasformato addirittura che attorno c'è raffaele e uriel perché raffaele forse per la guarigione comunque ci sono ogni volta che vi racconto qualcosa sappiate che in qualsiasi eseggete nel libro di enoc il talmud raccontano sempre cose differenti io sto scegliendo una linea una linea che è un po tortuosa quindi troverete sempre teorie differenti da quelle che vi dico io ne ho scelta una sola ce ne sono quattro quindi che succede enoc si trasforma in finalmente si trasforma in dio cosa accade praticamente accade come avviene questo come si trasforma in mecatron incomincia a bruciare le sue ossa e su ossa diventano carbone la sua carne diventa fuoco i suoi occhi diventano proprio raggi infuocati i suoi le iride diventano di brace si infiamma diventa una torcia umana enoc la sua parte umana viene totalmente bruciata e nel frattempo tutto questo avviene perché prima michele da un olio un olio da bere un olio di vino perché in tutto questo viaggio ovviamente enoc incontra anche l'albero della vita e accanto c'è un albero che fa olio l'albero della vita e l'olio che poi diremo a che cosa serve questo è un guento questo è quello automaticamente michele porge questa specie di bevanda che sa anche di menta sa di intanto di erbe e cosa accade accade che in quel momento si trasforma diventa come loro se non superiore perché superiore non piace tutto ciò a tutti gli angeli attorno il paradiso il fatto che un umano si sia legato al divino e sia diventato addirittura superiore perché avviene tutto ciò e però cosa dice dio si ferma un attimo e dice aspetta io ti ho dato i poteri ti ho dato tutto ma tu scendi per un mese e devi dire a tutti i tuoi parenti di incominciare a selezionare le persone che troveranno nel loro tragitto di vedere chi sono i puri e i corrotti quelli puri li devi salvare lui fa un altare da lì inizia il sacerdozio ebraico perché i enoch insegna a matusalemme a suo figlio come cercare di di avvicinare di legare le persone ancora buone sulla terra cercare di legarle tutte fra di loro casualmente sono tutte dello stesso ceppo e quindi che succede rimane un mese lì a spiegare a raccontare cosa devono fare e ritorna fisicamente come tutti gli altri non è sotto forma di angelo quando poi ha terminato questa fase qui che dio gli dice mi raccomando in un mese devi cercare di prendere tutti perché faranno molto faccio scoppiare il diluvio universale informa anche noè tutti quelli che ci saranno perché devono fare un'arca devono prepararsi perché fra un po io ucciderò tutti quando sale finalmente diventa metatron metatron viene raccontato non è un angelo come tutti gli altri ha 72 ali quanto i 72 nomi di dio e c'ha 3665 occhi per guardare dappertutto lui inizia a mettersi accanto e a registrare a scrivere tutto diventa anche immortale perché diventa immortale perché viene tolto dal tempo è normale deve raccontare e deve descrivere la crono storia del mondo è normale quello che accade ma perché perché accade tutto ciò perché accade questo accade perché questo è la mia è la mia teoria ok ora vi dico perché vi ho raccontato tutto ciò il nostro bravo è diventato come dio tanto che alcuni alcuni sono stati anche presi in giro alcuni ebraisti sostengono che quando hanno scritto il talmud raccontavano di vedere due divinità due due dei uguali non ci sono due dei in quel senso ok cosa è accaduto si evince da questa storia che dio è infinitamente buono è eterno ma a questo punto bisogna dire che non è infinitamente potente scusatemi il termine perché da questo si evince che dio se non ci fossero stato l'avvento degli arcangeli e dio non avrebbe preso nessuna precauzione e cosa sarebbe accaduto perché questa corruzione fai far arrabbiare così tanto dio cos'è questo segreto ecco mettiamoci per un attimo le lenti della simbologia mistica e iniziamo a capirlo dio non è infinitamente potente e questa è una prova è immortale può fare miracoli ma a questo punto si evince che lui teme la corruzione io l'ho chiamata il cosiddetto cancro storico dio è come se avesse un cancro e lo deve stirpare questo cancro rischia di degenerare distruggere tutto quello che lui ha creato e allora che cosa fa crea un suo doppio puro diciamo non corrotto senza malattie che la mattia intesa è la corruzione sociale degli uomini per cercare di ricordare quello che è in poche parole è come se in termini informatici lui prese una scheda madre che è enoch e la prese e creò un database di tutto quello che lui è immaginatevi essere un computer informatico ha un virus che sta cercando di distruggere tutto quello che ha creato lui crea praticamente un doppio un database a parte che è metatron come lui degli stessi poteri che archivia tutto quello che di buono lui è nel passato nel presente e quel ipotetico futuro che verrà senza la corruzione il modo che quando lui fa un reboot che è il diluvio universale lui si ricorda come era e addirittura torna a essere quello di prima avete capito quello che è successo quindi da questo si evince che dio teme la corruzione per questo gli angeli e tutto il resto sono predisposti e consigliano e guidano e vigilano per il bene perché evidentemente nella storia ok la corruzione il male il cosiddetto noi chiamiamo molok evidentemente la parte oscura quando prevale teme la mancanza di creazione fa sì che fa ammalare quella parte divina allora il divino che cosa fa prima di affrontare fare una cancellazione di sé preferisce creare un database di memoria e quello è metatron ecco perché il più grande di tutti ok metatron è il più grande di tutti per questo motivo e per questo viene paragonato a dio non è uno come dio che facente funzioni di dio metatron alle volte viene indicato come pieni poteri dove io metterò il mio nome dice dio quindi è come se fosse in termini informatici è quello ma perché ha preso un umano perché se se andate ad ascoltare le passate dirette io dico sempre che dio in una camera buia non è consapevole di sé la luce rende consapevole lui e il suo creato l'uomo ha il compito di pensare dio di essere consapevole di lui e di conseguenza lo rende creatore ok quindi di uomini servono a dio per renderlo consapevole viene pensato un atto divino e quindi lui è esiste ok è uno specchio ecco perché dante quando scorge la luce dopo il trentatresimo campo canto scorge la luce e vede se stesso perché vede il riflesso di sé di quello che dio ha creato e quindi cosa succede succede questo ed è io lo credo io lo scusate se ho usato i termini informatici ma era per rendere un po più chiara la cosa e quindi dio si è creato un anticorpo un alter ego per dire tu nel frattempo continua a raccontare lo scribba la storia perché un giorno quando io farò il reboot del mio creato cancellerò tutto il mio creato io mi devo ricordare tu accanto a me farai questo infatti poi c'è elia che diventa praticamente anche lui un arcangelo che è quello che tiene la corona quindi la corona inteso la consapevolezza il potere di dio mentre quello tiene la memoria quindi ecco perché prende un umano e lo fa diventare angelo molti scrivono nelle cronostorie bibliche che addirittura due angeli vanno su che sono elia ed eno che due scendono che sono i cosiddetti angeli caduti perché devono prendere il loro posto io trovo che invece ci sia qualcosa di più complesso rispetto a una sostituzione fino a stessa e quindi praticamente poi ovviamente arriviamo ai cosiddetti abbiamo parlato dei mi avete chiesto addirittura di non si può non parlare di metatron senza parlare praticamente dei dei solidi cioè non si può non parlarne perché esiste il cubo di metatron che cos'è il cubo di metatron eccolo qua lo vedete questo qui racchiude tutti i solidi diciamo plano platonici perché perché è importante questo intanto si si muove la legge dell'ottava che era misura dell'uomo ricordiamoci che metatron è fuori dal tempo non interagisce con noi come fanno gli altri angeli lui ha un altro modo di comunicare con noi ed è questo allora per i ovviamente per i data dei detrattori gli scredenti questo qua sono solamente dei disegni geometrici invece no metatron racchiude all'interno di questi poligoni qua vedete dei solidi ora ve li faccio vedere meglio in questi solidi ci sono i quattro elementi c'è la terra c'è lettere diciamo sono cinque gli elementi però in teoria i solidi sono che c'è il fuoco vedete c'è l'aria e poi c'è lettere che riguarda lo spazio riguarda la parte cosmica indicata così la parte chiamiamo la parte cosmica led e poi c'è l'acqua come vedete questi sono tutti gli elementi che sono racchiusi all'interno del cubo di metatron ovviamente metatron ha un modo diverso da comunicare con noi e questi sono i solidi che potete trovare in divina proporzione che sono questi solidi qua sono stati fatti sono soli di platonici sono molti vicini molto vicini a quelli vedete c'è un del caedro è presente che su questi sono stati disegnati da leonardo per uno dei libri più belli del mondo che è il libro di pacioli grandissimo matematico che riuscì a unire la la geometria pedagorica a quella alla matematica contemporanea della propria epoca quindi era una sorta di genio matematico e lui ovviamente si avvicinò a leonardo gli chiese di fare questi solidi per il suo libro sono alla libreria di brera potete tranquillamente vederli accostarli andiamo tutta casa un elemento questo potrebbe essere elemento acqua o l'elemento ghiaccio chiamiamolo acqua quindi cosa accade praticamente iniziamo a capire che metatron comunica con noi attraverso questi solidi che noi troviamo in natura molto spesso si dice che l'acqua viene informata ecco qui abbiamo un esempio di possiamo dire che un cristallo di ghiaccio dove come vedete la natura si muove attraverso dei simboli abbastanza ben definiti e proporzionati questa è cosiddetta anche geometria sacra quando l'acqua viene informata acquista viene fatta vibrare attraverso le vibrazioni c'è micio caco il più grande scienziato che si è occupato dell'informazione dell'acqua quando l'acqua viene informata arrivano questi solidi vedete queste qua sono tutte delle vibrazioni che vengono messe in una base dove c'è dell'acqua e automaticamente quando vengono trasmessi alcuni suoni attraverso l'acqua avvengono queste geometrie che sono molto vicine a quelle di metatron quindi avvivono anche i famosi group circles come vedete questi qua che siano veri che non siano veri ovviamente tutto da oppurare però ci sono delle geometrie che avvengono anche nei campi di grano poi vi spiegherò perché arrivano queste geometrie vedete sono molto belle fatte bene se non so se sono di fattezza umane o no fatto sta che arrivano sempre queste cose facciamo un passo un attimo come vedete la geometria la troviamo anche nelle cattedrali le cosiddette c'è un motivo perché si chiamano catre quattro volte per questo motivo perché in realtà le cattedrali che adesso ci sembrano spoglie soprattutto gotiche avevano la funzione di ampliare il suono perché si cantava all'interno delle delle cattedrali non dimentichiamoci che le note musicali sono state create per sono state create su una poesia di san giovanni e quindi e le iniziali su questa poesia su su questo di questo cantico di per san giovanni sono il dore mi fa sola si quindi da caso quando le note musicali vengono create appositamente quando si utilizzavano le cattedrali o cosiddette matrici addirittura perché in sicilia le chiamano ancora matrici come le chiamano a notre dame come si dice come a parigi le chiamano dame perché sono dedicate al femminino e quindi cosa succede troviamo nelle cattedrali che hanno delle geometrie abbastanza perfette e che ricordano moltissimo la geometria sacra perché questo perché venivano effettuati dei canti gregoriani e ricordiamoci che i canti gregoriani non erano sotto forma indicati da un non erano indicati da un orologio non erano scanditi col tempo era il suono veniva indicato dal cuore il tactum l'unità di misura del tempo veniva scandito dal tactum che era il battito del cuore quindi erano dei canti che erano in armonia con la parte organica dell'uomo quindi l'uomo creava il tempo per cantare certi certe evocazioni la prova evocazione io mi permetto di di fare un'illazione anzi una provocazione perché informare l'acqua perché non iniziamo a parlare di evocare il suono evocare queste geometrie evocare all'interno dell'acqua cambierebbe tutto perché informare significa che io cerco di mettere qualcosa all'interno che non è preesistente all'interno di questi un liquido che sia è vero che tutti gli elementi informano perché il fuoco ha una memoria e la cenere il vento trasporta delle cose quindi ha una memoria anche lui la pietra viene incisa ed è una memoria eterna l'acqua anche la sua memoria certo ma questa memoria è un'informazione che viene messa all'interno dell'acqua o è un'evocazione o è già persiste all'interno dell'acqua e basta con alcune vocalità alcune tonalità alcune vibrazioni vengono evocati questi liquidi perché è importante le cattedrali nonostante ci sono dei detrattori atei odiamo tutto ma perché io ci tengo a non buttare anche la cultura il bambino con l'acqua sporca perché oltre al credo alla fede c'è anche la cultura e quella non bisogna buttarla fa parte di noi allora stiamo dicendo il tempo era col tactum venivano cantate certe cose gregoriani il coro veniva messo in un certo modo queste cattedrali che ci sembrano spoglie in realtà servivano ad amplificare il suono perché cosa noi siamo fatti per il 90 per cento d'acqua e queste vibrazioni queste cose chi lo dice se nel nostro corpo nel nostro sangue non avvengono queste vocazioni e a seconda del canto che facciamo non invochiamo michelangelo o scusate michele raffaele o lo stesso metatron chi lo dice chi lo dice che in passato quando giordano bruno ci parlava di certe cose di certe conoscenze che arrivavano a noi e se questi group che vediamo praticamente a terra in realtà è un suono che fa evocare quello che già persiste nella terra è una domanda che faccio a voi perché questo cambierebbe totalmente il punto di vista perché noi siamo abituati che queste geometrie vengono da sole e noi non riusciamo a recepirle io sono dell'idea che sono dei suoni che evocano dalla terra dalla roccia dall'acqua dall'aria e se questi group cycle si creano anche a mare o si creano nel vento negli elementi con la quale metatron essendo fuori dal tempo quindi non può comunicare da noi con noi utilizza queste geometrie per informarci la geometria di dio io domando a voi a me non piace fare dirette dove si crea il guru che parla parla dice grandi paroloni e poi alla fine la gente non si compra il libro che sta cliccato sotto si abbona a me non piace così a me piace farvi ragionare le mie domande le mie dirette non creano sicurezza questo lo so ma vi pongono delle domande che vi lasciano poi una specie di di cervellino grigio non le celluline grigie che si muovono e cominciano a ragionare su tante cose quindi detto questo io lascio a voi appositamente la possibilità di riempire e di continuare questa mia considerazione riguardante metatron che ovviamente è un serafino che l'essere più vicino a dio che è unito di tanti ali molti lo chiamano super arcangelo non cambia la sostanza la sostanza è che questo essere ci permette di comunicare con lui io perché ne parlo e perché ringrazio roman per avermi sfruculiato su questa cosa perché io faccio un corso sugli archetipi l'unico modo per rispondere e tenere il contatto con questa geometria e creare e conoscere il proprio archetipo perché qual è il discorso secondo me queste vocazioni avvengono ovunque e in passato questi illuminati questi esseri venivano a conoscenza di antichi saperi perché sapevano come far captare a loro certe certe vibrazioni certe geometrie cioè le sentivano mentre noi le vediamo o nell'acqua quello che è loro gli si producevano dentro attraverso dei suoni per questo leonardo è molto vicino anche alla musica al suono per questo perché si evoca qualcosa dentro noi abbiamo perso questa capacità chissà se non riusciamo a riprenderla allora io faccio un corso sugli archetipi che è molto vicino a questa cosa le persone che lo hanno fatto sono rimaste impressionate perché si creano attraverso l'altro delle capacità di riuscire a capire qual è il tuo simbolo il tuo archetipo e ti permette di comunicare con quello che sta oltre la realtà che tu riesci a immaginare e quando lo faccio il corso sugli archetipi lo faccio quando mi danno la possibilità di farlo perché un corso di tre mesi cioè non è un corso così che si si può fare una full immersion di una settimana tre giorni ma bisogna starci sotto e quindi cosa succede il suono che noi sentiamo non è secondo me l'informatore principale è colui che aziona qualcosa che viene evocato attraverso gli elementi così funziona la nostra realtà ok andiamo avanti con le domande vediamo il fatto è che già esiste tutto quindi si parlerei di vocazioni quindi il fatto è che già esiste tutto quindi si parlerei di vocazioni grazie sì in effetti quello che che penso anch'io pensate voi a riflettere su questo perché informare perché non evocare d'altronde se voi andate più la vi spostate più la con delle culture mesopotamiche ma anche orientali lì si parla di eoni si parlano di invocazioni e anche i greci evocavano no e perché noi invece dobbiamo aspettare che la cosa ci piova dall'alto non è così quindi l'universo diciamo chiama e noi dobbiamo rispondere come attraverso questo quindi andate a studiare andate a vedere le cattedrali che ci sono nei vostri paesi che ci sono sicuramente medioevo gotiche andate a vedere scoprirete che il suono che c'è magari ci può raccontare qualcosa ormai dobbiamo cambiare totalmente magari iniziamo di nuovo a far cantare i canti gregoriani con il tactum non più con i ritmi che ci sono frenetici perché poi tutto cambia nell'ottocento quando arrivò l'avvento del tempo scandire il tempo gli orologi e quant'altro sì sì giorgio potrebbero veramente essere messaggi per risvegliare le coscienze per risvegliarci è quello che è accaduto nei mistici i mistici è avvenuto questo i cosiddetti sigilli di giordano bruno sono critici né che hanno potere cioè né che se io ora disegno un sigillo di giordano bruno me lo metto qua in testa nessuno mi fa male non è così quei sigilli sono stati fatti critici per aprire la mente che già è qui è tutto qui quei disegni non fanno altro che aprire qualcosa che già hai non ti danno potere questo è la mia personalissima opinione l'invocazione fa con l'invocazione fa risuonare la parte divina di noi e non la parte corruttibile ecco perché quindi e poi chissà perché poi si sono corrotti quelli lì quando si sono legati alle donne perché le vedevano buone e ve l'ho detto il corso sugli archetipi io lo faccio quando c'è la possibilità quando qualcuno mi invita per tutta italia dovrei avere una sede non lo posso fare da solo a milano mi è facile perché vivo qua allora grazie bellissima osservazione ti ringrazio tantissimo sì allora vediamo cosa c'è scritto qua si potrebbe considerare il cubo come un portale per accedere alla conoscenza mentre siamo nella dimensione terrena il portale che tu dici ne parlerò domani alla conferenza di domani perché domani c'è un aperitivo un aperitivo conferenza il portale che tanto tu hai detto non è il proprio il cubo il cubo le geometrie che vengono evocate persistono già nella nostra realtà sono determinate suoni che li evocano il portale invece è anche nella cabala se ne parla che è l'adam cadmon cioè la cosiddetta non ne avete sentito parlare in altre dirette sono due cerchi due dimensioni che si legano e creano questa molti la chiamano la viscere di pesce la chiamano in italiano poi viscera fisces in latino però in realtà questa due dimensioni che si legano creano questa questa si chiama viscera di pesce viene chiamata così dove è molto vicina alla parte che cristiana è anche vicina alla parte quindi quella è la dimensione che si crea dove all'interno viene sempre identificato con della luce dorata quello anche un altro significato però da lì arriva il portale che permette la creazione di dio di tutto la matrice sta vicino a dio che poi è la dal carbon è l'unità di misura dove viene creato tutto dove l'uomo è l'unità di misura di tutto è un po complesso per chi mastica di cabala non è facile accettare perché metatron ad esempio non c'è nella religione cristiana perché ci sono solamente i tre arcangeli addirittura viene accettato uriel ma viene nascosto viene nascosto un pochettino perché viene chiamato angelo nero uriel perché è un po complessa la cosa però michele l'arcangelo michele raffaele e gabriele sono quelli accettati dalla religione cristiana ma metatron perché non c'è perché metatron in realtà la regione cristiana si fonda sulla trinta e come non come non farlo perché lì c'è l'innesco diciamo è stato inserita la parte del figlio quindi padre figlio e in quel caso metatron è la sintesi che è lo spirito santo nella regione cristiana metatron potrebbe equivalere allo spirito santo perché fiammeggiante e di fuoco e creatore e la stessa cosa è metatron nasce dalle fiamme quindi ecco perché non c'è metatron nella regione cristiana ma c'è nella bibbia e c'è in altre new age in altre cose e allora è lecito pensare che il creatore non può esistere senza la creatura certo un creatore è lecito hai ragione phoenix training è giusto perché il creatore ha bisogno delle sue creature per essere dio perché altrimenti che dio è uno che non crea e c'è scontato quindi è giusto roman è dedicata a te questa diretta sei contento spero che ti sia piaciuto allora vediamo se ci sono altre cose allora evocare quale tipo di angeli quelli dell'antico testamento quelli dei rielaborati dalla tradizione cattolica non cambia non cambia nulla puoi evocare pure gli angeli che stanno nel nel corano non è quello il problema il problema non è il feticcio o quello che l'uomo ha cercato di definire e l'archetipo che sta dentro quello è importante ai tempi l'archangelo michele era pollo divino viene tenuto anche quelle parti greche ancora no guerriero però tiene la bilancia come a nubi no quindi ha le stesse funzioni ai tempi michele fino al 1200 era l'angelo della soia era lui che ti accompagnava nell'aldilà e ti giudicava quindi non è importante quale bisogna evocare e l'archetipo che che vicino a te la tua sinergia c'è gente che più vicino a hermes e allora chiamerà evocherà la figura archetipale di hermes c'è chi più vicino ad apollo e allora evocherà quello a seconda di come sei fatto a seconda di come il disegno divino necessita della tua persona allora la trinità può equivalere alle tre dimensioni che per ora conosciamo no la trinità cosiddetta trine non è la dimensione le le tre dimensioni questo no la trinità non è altro che se voi vedete il triangolo in realtà sono dei cerchi lo spiega perfettamente dante e ne ho fatto una diretta anche l'altra volta la trinità è la concezione che nella nostra realtà dobbiamo comprendere quello che è accaduto come è stato creato il figlio lo spiega benissimo la l'immagine che trovate di di michelangelo della pietà di ronnanini che sta a milano lì viene creato tutto cioè c'è un dio un gesù che sostiene sostiene la propria madonna e in realtà è la madonna che sostiene lui ma la madonna nasce da cristo quindi cosa accade aspettate che tolgo questo cosa accade praticamente il figlio praticamente è il creatore della sua ma di sua madre perché è dio quindi cosa succede dio per capire l'amore degli uomini si fa figlio ma nel fattempo che figlio è creatore ed eleva una donna che diventa madre ed è lo stesso creatore lui è creatore della sua stessa madre lo so che è complesso ma è questo la parola cristo di gesù è l'amore di dio dio voleva capire questi uomini come facevano ad amarlo si fa figlio ma deve elevare una donna che è maria e quindi elevando maria cosa fa lui diventa figlio quindi capisce l'amore di una madre ma diventa anche creatore e la madonna diventa madre di dio e lo stesso tempo diventa creatura di dio e questa è la trinità la trinità è un continuo dante la spiega in maniera diversa nel senso che lui vede alla fine dei cerchi dove dio crea un altro cerchio accanto che il figlio quindi il creatore e la sintesi e lo spirito santo perché è importante lo spirito santo perché la sintesi finale perché perché altrimenti sarebbe una cosa duale e quello che unisce tutto in questo caso è lo spirito santo di anche gesù dice una cosa particolare gesù dice offendi mio padre offendi me ma non offendere mai lo spirito santo perché in realtà lo spirito santo è quello che definisce la creazione dei due cioè senza sarebbe una partita ping pong praticamente loro se la cantano e se la suonano creato e creatore creato e creatore lo spirito santo è quello che unisce l'universo e rende consapevole dio al figlio il figlio a dio e a noi il tutto per questo è importantissima quella colombina che vedete in giro volare nei nei nelle pitture ha un significato potentissimo che poi ne ho parlato anche dei rosa croce perché importante che la chiamano fenice e allora dunque dunque allora ma la dignità è un'invenzione di costantino vatti a rileggere le chiese unitarie si va beh qui entriamo nella politica io mi occupo della simbologia del messaggio che c'è nella bibbia in chiave simbolica poi è normale che ci sono state totalmente rivisitazioni stata rivisitata la madonna che non appariva mai infatti nella bibbia non appare ma è quella che si sa che spinge ad andare da giovanni battista quindi la cosa più importante quella la cosa più importante è che la madonna spinge gesù ad andare da battista a farsi battezzare perché lo fa e la madonna quella che viene indicata nell'apocalisse come la nuova era dove deve fuggire dal serpente che loro boro che il destino quindi non importa quello non dovete staccarvi dal feticio storico perché altrimenti non capite i miei discorsi sono troppo vanesi chi capisce di simbologia è importante il messaggio perché la costruzione della storica della bibbia il vangelo sono state fatte per essere capite dalla parte simbolica perché la logicità non ce n'è non c'è logicità nella storia lineare non ha senso perché fare il misogino cosa ho fatto cosa ho detto di misogino spiegatemelo e io non sono assolutamente misogino ci mancherebbe io sono favore delle donne quindi allora la trinità e lo spirito santo sono un'invenzione a tavolino di costantino dovresti rileggerti le chiese unitarie non c'entra nulla questo non c'entra nulla questo tu mi parli di cronostorie io ti parlo di aspetto simbolico a me non interessa se gesù è esistito se è andato a banchettare a vicino al giardino dei gezzemani non interessa questo mi dispiace mike tu mi stai parlando di cronologie storiche non non importa a me a me importa la chiave simbolica che è lì per far per averla fatta arrivare a me ho fatto se tu ti vai a vedere le mie dirette forse tu non l'hai viste l'ultima diretta che ho fatto io parlo addirittura del canto del gallo che è ridicolo dal punto di vista storico no tu mi tradirai e prima che il gallo canti allora c'è il gallo dietro e fa chi 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 cioè dietro c'è un messaggio simbolico potentissimo non mi interessa la parte storica capito la chiesa potresti farci un pochettino della chiesa unitaria la chiesa unitaria è praticamente la chiesa cattolica l'università quella universale sì il concilio che è stato unito non pensare che io possa credere alla storia di costantino del del sant'elena che riconosce la croce in realtà è tutta in chiave simbolica mi dispiace ma parliamo due lingue differenti non lo so ma è che mi dispiace tu mi stai parlando di storia della delle religioni a me non interessa la storia delle religioni quella è un'altra diretta se mai la facciamo storia delle religioni ma la guardiamo in due quindi non è un problema ecco qua emanuele basta leggere pelican e attentamente con un certo livello di di astrazione e la trinità è tutta lì nella natura ciao sì è un po come nel mito viene rappresentato l'archetipo come va fatto e divenuto simbolico esattamente cioè è come immaginare no che quando la nascita di atena che nasce dal dalla testa dal cranio spaccato di zeus è come immaginare e dire ah ma che c'entra una donna non una bambina non può essere partorita dal cranio di un c'è dal cranio di un uomo e allora non esiste ma è normale che la è tutto una parte del mito una parte metaforica la bibbia è identica è identica non c'entra nulla con la cronostola è che vi hanno ormai indottrinato a leggere le cose in maniera lineare e quindi ogni cosa per voi è come è come è come andarsi a vedere guerre stellari e fissarsi perché la spada laser non esiste cioè no non può esistere allora ti perdi tutta la storia che c'è di dar fennec di anakin di skywalker c'è e non lo so è un po troppo elementare come cosa non lo so va bene siamo arrivati perfetto la conclusione è che la religione è una truffa io chiuderei la diretta dopo questa perché è inutile cioè questa questa è la frase praticamente che chiude un'ora intera di sgolarsi di cose quindi e capito quindi ora vi hanno inculcato la moda del paganesimo e teniamoci il pagane il paganesimo era migliore del cristianesimo sì 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 va bene perfetto quindi nessuno è informato del fatto che i romani praticamente seppellivano delle certotesse vive no era meglio il paganesimo il paganesimo è bello il paganesimo è tutto e infatti nessuno sa dei riti che facevano i celti che bruciavano le donne praticamente i nelle barche vive le bruciavano vive nelle barche e perché paganesimo è bello io proprio farei una canzoncina per dire ogni volta che c'è studiatevi tutte le religioni che ci sono state prima durante dopo io non vi dico che il cristianesimo è la più bella religione del mondo che tra l'altro neanche cristianesimo è il cattolicesimo e il cattolicesimo sono io sono concorde con voi il cattolicesimo è una truffa è una truffa di stato è una religione politica creata a tavolino su una base cristiana e quella la cristianità è una filosofia di pensiero ok si sono macchiati nel tempo i cattolici di cose cose indescrivibili giorgio chi ha stabilito i quali elementi dovevano corrispondere ai vari solidi per esempio il cubo perché alla terra credo che si avvicini molto acqua alle vibrazioni che facevano che emanavano tipo il fuoco il triangolo è scontato perché punta verso l'alto ok forse queste vibrazioni oppure questi testimoni riuscivano a vedere delle vibrazioni attraverso gli elementi e vedevano questi solidi mi spiego cioè noi abbiamo perso delle facoltà è come una sorta di rattomansia questi erano capaci di percepire certe energie certe cose andate a vedere ad esempio tutte le basiliche non vi parlo delle chiese le basiliche che erano i templi romani che a sua volta erano i luoghi di culto delle antiche civiltà lì c'è sempre l'acqua accanto io sto facendo uno studio sulle chiese di milano tutte le basiliche hanno sempre avuto l'acqua e dove c'è stata l'acqua c'è stato un miracolo di guarigione solo che per i pagani era invocare il divino attraverso le gregore bevevano l'acqua e venivano informati i guariti evocavano i cristiani invece pregavano pregavano magari avevano qualche illusione in testa e quando vedevano la stessa cosa avevano il miracolo e dicevano che era stata la madonna ecco dove avvengono le guarigioni le guarigioni spontanee nelle chiese avvenivano perché si pregava si faceva la gregore e di conseguenza venivano i miracoli mi spiego e poi ognuno le pellava chi voleva a seconda di chi c'era san tommaso mi ha fatto la grazia san michele mi ha fatto la grazia quindi ma in realtà era questo il femminismo misoginia sì vibrazioni e frequenze sì ci sono a me attira l'espressione catara della religione basata sulla conoscenza e l'amore sì hai ragione però i catari come lo erano anche i valdesi erano molto puritani avevano delle leggi molto ferre alcuni addirittura non professavano neanche alcune religioni diciamo alcune esternazioni che non erano cattoliche non praticavano neanche il sesso quindi una una popolazione si sarebbe estinta totalmente ecco perché i cattolici erano avversi perché non avevano una possibilità di vivere all'interno delle egemonie politiche e siccome i cattolici volevano creare una politica certe religioni così estreme certe scuole di pensiero dovevano essere eliminati per loro per la salvaguardia del loro potere quindi tutto qua allora allora aspettavo di sentire qualcosa in nuova da te va bene allora allora aspettavo di sentire qualcosa nuova da te anche perché ti seguo il rispetto perché sei una persona preparata cosa vuole io allora ora ti mando una piccola provocazione guarda io non non cado nella lite assolutamente io ti chiedo di postarci o di mandarmi via mail dove gustavo roll parlava del cancro storico che dio sospettava all'interno della corruzione te lo chiedo perché se mi dici che gustavo roll ha detto quello che ho detto io io cancello addirittura la diretta perché questa è una truffa intellettuale no quindi io la cancello però adesso me la devi portare tu ti prego di mandarmi la mail dove tutta l'ultima parte che non è esegetica ma è simbolica ti prego di portarmela ma c'è la mia la mia mail è giorgio di salvo 79 chiocciola gmail.com e ti prego di mandarmela così la leggiamo in diretta e vediamo dove gustavo roll parla dei metatron parla delle vocazioni che c'è come ne ho parlato io io credo che siano frutto del mio studio che ci impiego anni tu dici che io l'ho copiato da roll bene accetto la provocazione e quindi caro amico che dice che ma è mike gaggiotti aspetto con ansia la tua mail dove descrive tutta questa mail perché altrimenti io sarei un cialtrone e ho copiato tutto da gustavo roll io non lo sapevo aspetto però ti prego qualora invece c'è qualche mancanza qualche differenza ti prego per onestà di chiedere scusa se invece accetto la provocazione mi piace questa sfida io non cado nessuno non ho bisogno di difendere quello che dico sì l'acqua è una grande sorgente esoterica la sorgente della vita hai ragione quello che succede all'acqua di lourdes sì infatti casualmente se ci fate caso anche mi sembra a brescia o a bergamo c'è una stessa storia uguale a bernadette identica dove diceva di scavare e ogni volta che queste profete dicono di scavare quest'acqua viene miracolata secondo me c'è qualcosa di più profondo più qualcosa legato a qualcosa di egregore qualcosa di energie più che miracolo ok allora ciao grandissimo giorgio grazie metatolo rappresenta il fatto di dio in quanto difficile comprendere il suo volto eh sì una volta trasformato non credo che sia facile anche perché ci sono alcune schiere di angeli dove nascondono il proprio corpo ci sono quelli che vanno in basso e quelli che vanno così poi ci sono a diritto eh nozioni per me nuove anche per me credevo che fossero nuove ma ho capito che in realtà forse ho copiato tutto da gustavo roll quindi vediamo un po aspetto con ansia guarda mandatemi questa mail perché ci tengo voglio il passaggio il libro dove gustavo roll parla parla del dell'infinitamente buono infinitamente potente del cancro storico quindi lui temeva questa cosa e addirittura la parte del database no che crea il suo doppio per salvarsi forse l'ho letta ancestralmente da qualche parte o forse una lettura di una mia altra vita o forse io in un'altra vita ero roll che ne so magari mi sono incarnato in giorgio poverino che sfiga allora gli antichi andavano a curarsi vicino ad alcune rocce si curavano con le vibrazioni sì potrebbe in vuota qualche tempo fa disse che per la meditazione l'acqua è fondamentale non per forza una sorgente anche una semplice fontana tutto si incrocia grazie matteo per avermelo ricordato non mi ricordavo questa cosa di carpe oro ti ringrazio tantissimo per avermelo ricordato non lo so ma chi è stato non lo so non lo so sto pensando perché mi stanno accusando di plagio quindi in diretta e io con coraggio sto dichiarando questa cosa quindi ora aspetto se non ce l'ha portata di mano la vado a vedere io vado in biblioteca da qualche parte compro il libro e vediamo dove la parte dove dove gustavo roll parla di metatron dove fa il suo doppio dove crea il suo doppio perché atteme la corruzione vediamo però in magia evocare indica chiamare energie basse e invocare energie alte ma in magia io ti parlo così in chiave simbolica la geometria sacra non è magia non è magia sono azioni sono azioni di divine è diverso quindi invocare evocare voi che diciamo invocare voi diciamo evocare io preferisco dire evocare ma ti ripeto non parliamo di magia metatron non è un mago metatron è è una parte di dio e come dio agisce un saluto al portogallo ciao cara veramente che piacere anche te un saluto allora caro giordo diceva il sommo poeta non ragioniamo di loro ma guarda e passa sì lo diceva virgilio ma no no ma invece io voglio affrontarle certe cose perché è un'onestà intellettuale se una persona in diretta mi critica io lo dico apertamente perché può essere un argomento di crescita anche per me io non devo dire solo le cose buone che dicono che non è offensivo quello che ha detto il nostro amico è provocatorio se fosse stato offensivo io non avrei neanche risposto ma siccome è una provocazione ok io colgo la provocazione in diretta con coraggio vi dico portatemi quando roll ha parlato di queste cose perché io non ho letto roll però potrebbe essere un caso di omonimia mi dice che 30 anni fa roll parlava di queste cose prego allora prego giorgio la conoscenza va condivisa e trasmessa certo e io sono qua ma la conoscenza c'è anche una una giusta polemica che permette di far crescere tutti alla prossima giorgio parla di gustavo roll no perché ormai sono accusato di plagio di gustavo roll quindi fino a quando non si smentisce questa cosa io non ne parlo è una provocazione la mia ci voglio voglio scommettere giorgio cosa ne pensi delle gregole che si formano durante il rito della messa cristiana e la potenza del rito della messa stessa è potentissima le gregole cristiana quando viene fatta con una certa concentrazione da certi sacerdoti ha una forza indescrivibile se viene fatta ogni domenica dai fedeli che dicono ora badomis quello dice ma domani cominciano a fare così come qualcuno quando va al funerale pensi a fare così non serve a nulla tutto è importante ma se deve essere fatto con un convincimento se viene fatto con la fede e diciamo è con un atto di credibilità fortissimo da parte di chi lo fa ma ha una potenza incredibile di liberazione la preghiera la messa serve a liberare la chiesa è finita diciamo la messa è finita andate in pace è una liberazione a volte una liberazione solo per il prete che non vedeva l'ora di farla finire a volte una liberazione per i credenti perché non vedevano l'ora di andarsene ma se viene fatta con la giusta potenza è una liberazione incredibile ma carpeo lo sta antipatico che lo sappia no si conoscevano colore verde amore energia esattamente anche come il colore verde è il simbolo del toro no l'ariete è il rosso e la natura la giumenca ai tempi era una giumenca il toro è indicato come la natura va bene allora che altre domande ci sono io va bene allora loro sono un uomo estremamente onesto allora loro sono un uomo estremamente onesto e trasparente se si vede queste provocazioni dettate dal lego di personaggi improbili sarebbe più spiegabile evitare questa volta non lo voglio fare io le provoco quando sono offensive quando invece c'è una provocazione onesta che dice una cosa del genere io l'affronto davanti a voi non ho paura non mi censuro allora forse una provocazione di prova che molti pensieri non sono non sono sono nostri buona fede potresti aver sviluppato lo stesso pensiero cavolo se è così lo voglio scoprire se è così mamma mia sono un mago ma veramente se qualora fosse che abbiamo sviluppato la stessa cosa in distanza di anni e di tempo senza che io l'avessi letto voglio dire questa va oltre io pensavo di essere accusato di plagio e invece invece non è così va bene ci sono altre domande amici abbiamo fatto un'ora e sette minuti siamo quasi 200 io non vorrei chiudere se ci sono altri argomenti e possiamo parlarne vediamo un po ci sono altre domande scusatemi le differenze fra lucifero e metatron intanto metatron è venuto prima lucifero inizia ad apparire solamente con la regione cristiana lucifero è un portatore di luce ok forse forse è molto più vicino all'arcangelo uriel ma lucifero è un arcangelo il più bello di tutti ma è una creazione simbolica della della regione cristiana lucifero è questo è l'angelo caduto che si è opposto ai poteri di dio invece metatron viene elevato vicino a dio invece lucifero voleva essere come dio ma poi sappiamo tutta la storia venne rinnegato perse venne buttato sulla terra e tutto il resto lucifero è tutta un'altra cosa il significato di lucifero è più che altro vicino diverso è l'aspetto che viene legato lucifero al principe del mondo che ne parla gesù lucifero è il principe delle cose materiche ecco perché viene legato alla figura di moloch ok ho sentito in giro che moloch non esiste perché un nelle traduzioni viene tradotto male e che cosa cambia se fra duemila anni anziché chiamarlo maradona lo chiamano mardonna ok ma sempre il grande calciatore del mondo rimane nei secoli quindi come sempre cerchiamo di deviare l'obiettivo cioè noi stiamo prendendo la mira su qualche cosa e automaticamente cosa accade accade che sbagliamo mira volutamente lo facciamo da soli la figura di moloch è un energia ve l'ho già detto anzi venerdì ne parlerò venerdì parlerò dato che abbiamo parlato di angeli per legge del contrappasso parleremo praticamente di moloch è riguardante dove scanare dove sanarlo dove si trova nei telefilm dove ti sono nei film continueremo questa questa parte se vi è se vi interessa vi cercherò di darvi alcune dritte dove si trova moloch moloch è una figura energetica è una parte è un'energia oscura che fa parte del sistema dell'universo nel disegno divino moloch che prende forza nella nostra dimensione attraverso le nostre azioni quindi sacrifici rituali messe nere non fanno altro che moloch di prendere forza gli sacerdoti non vogliono che la volta dei tempi cambia col bene il male guerra e pace e malattia e guarigione no la i sacerdoti vogliono che l'energia di moloch quella che gli dà potere qua nella terra rimanda ferma e quindi stanno cercando in tutti i modi attraverso dei riti mondiali dalla iniziazione del presidente fino ad arrivare praticamente alle ai telefilm stanno cercando in tutti i modi di metterci in maniera subliminare le e le loro egregore le loro preghiere per far sì che noi rimaniamo in maniera materica in questa dimensione ok l'arcangelo uriel ne ho già parlato lo puoi vedere nella diretta di san pietro troverai il corrispettivo della simbologia mistica fra uriel e san pietro troverai questo allora allora i vangeli non sono stati scritti ad anni di distanza dalla morte di gesù in posti diversi ma non era lo stesso pensiero per quanto sviluppo individualmente allora anche di tiberio il l'imperatore tiberio non c'è nulla nel periodo di cristo ci sono il lago tiberiade e tiberio no non si sa nulla di tiberio lo sappiamo attraverso cicerone che è stato scritto cento anni dopo quindi non neghiamo l'esistenza di tiberio come imperatore ma neghiamo l'esistenza di cristo perché è stato scritto cento anni dopo nei vangeli vedete come che forme pensiero abbiamo negative perché se una la vediamo come un atto di fede è falli è falsa invece il fatto che non abbiamo nessuna testimonianza poi tra l'altro devo dire anche un'altra cosa questa storia dei vangeli il manoscritto di kuram dall'altra parte del del fiume del manoscritto di kuram sono stati trovate praticamente delle scritture ancora più antiche dove testimoniano la test diciamo che i vangeli oltre a essere scritti nella lingua ebraica o in greco sono stati trovati anche in un'altra lingua ancora più antichi molto più vicini ai secoli di cento anni sono stati trovati alle diciamo vent'anni avanti cristo sono stati trovati e quindi i scriba usavano la stenografia conoscete la stenografia quella che si usa anche adesso ai tempi cicerone metteva in quattro angoli in qua quando parlava lui che faceva queste faceva da cicerone a se stesso metteva in quattro angoli degli scriba e dovevano scrivere tutto quello che lui diceva perché l'oratore si girava e quando si girava automaticamente evocava ogni parola a qualcuno quindi ognuno scriveva una parte di quello che diceva cicerone perché vi faccio questo esempio perché sono state trovate delle stenografie sono state trovate antichissime più antiche delle lingue ebraiche e della lingua e della lingua greca dove raccontano in maniera lineare tutto quello che c'è scritto cento anni dopo quindi un attestato di ragionevolezza e di verità ce n'ha ancora di più secondo me dato che sono però non ne parla nessuno non ne parla nessuno perché fa figo tradurre l'ebraico perché ormai siamo tutti traduttori di ebraico siamo tutti biblisti siamo tutti ormai stiamo diventando pagani greci e quindi non fa figo la stenografia per adesso non va di moda dobbiamo aspettare che spunta un un famoso qualsiasi traduttore di stenografia che parla di alieni allora diventiamo tutti stenografi ma la prossima secondo me moda sarà la stenografia perché è casualmente i quattro vangeli sono degli scriba e come cicerone che metteva i quattro lati ok cristo che raccontava metteva degli scriba i quattro lati la stessa identica cosa sappiamo la dominazione romana che c'era bezzaglia si mangiava un pesce meraviglioso il miglior pesce di tutto l'impero romano e andavano tutti lì e quindi prendevano tutti le stesse abitudini gesù non scriveva perché c'erano gli scriba che raccontavano filippo era uno che parlava il greco e l'aramaico in maniera perfetta san filippo detto dai cattolici ma filippo era un traduttore infatti quando qualcuno si avvicinava lui sapeva già come parlare quindi capito quindi questo vi vi devo dire i vangeli apocrifi io li considero sì ho fatto anche delle dirette riguardante i vangeli apocrifi perché il cattolicessi comunque li rende apocrifi ma se voi vi leggete la bibbia o il vangelo di pietro trovate delle cose veramente interessanti questa parola apocrifi a me non consiglio non è considerata perché riguarda la politica cattolica che a me non interessa la storia politica cattolica non interessa io mi occupo mi voglio occupare di simbologia in questo caso mistica dove va un po più avanti allora parliamo dell'aspetto degli arcangeli dei dipinti che sembrano donne che ne pensi allora se parliamo del 400 e del 500 nel 600 e anche fino a caravaggio usavano delle donne o usavano dei giovanotti come sappiamo non erano proprio donne erano ragazzini caravaggio usava dei ragazzini anche perché ne era attratto sessualmente però lasciamo stare un altro discorso ma l'angelo col violino di caravaggio un ragazzino ora si sa che quando l'uomo non è molto formato a livello ormonale non è come un uomo di 30 anni 40 anni un ragazzino di 17 anni è gravro cioè è molto fine nel viso anche san giovanni veniva sempre utilizzato una donna perché era fine perché era dovevi indicare il giovanotto siccome gli angeli nella eh nella tradizione cristiana gli angeli sono puri sono eterei e sono assessuati diverso nell'antico testamento che i rinne come abbiamo visto fanno baldoria no sesso droga rock and roll ma nella cristianità gli angeli sono tutti dorati angelici puttini sono vicini a eros no e quindi eh c'è questa influenza greca del dell'angelo infatti noi diciamo angelo che è la parte praticamente greca e quindi il motivo per la quale sono affemminati è per raccontare per dichiarare questa purezza anche perché è vicina ad amore ad amore greco ecco perché vengono indicati così più femminili più sembrano quasi hanno eh hanno questo aspetto femminino perché sono assessuati gli angeli cristiani non hanno sesso e quando non sono sesso non devono avere dei ecco un angelo con le mie sembianze è impossibile che ci sia impossibile magari possono disegnare un'altra figura luciferina allora chi è più angelo arcangelo serafini i serafini i serafini scusate allora i serafini sono sono praticamente più alti in grado poi ci sono i poteri le virtù fino a scendere fino a quando poi ci sono gli arcangeli ma attenzione gli arcangeli non sono quelli più bassi perché sopra gli arcangeli ci sono gli ottavi noni addirittura sopra ci sono tantissime categorie ok l'abbiamo già detto le virtù i poteri eh e ci sono addirittura i cherubini stanno sotto gli arcangeli l'obiettivo di ogni serafino qual è? Invocare a Dio continuamente in eterno la sua parola quanto sei bravo quanto sei grande Dio e cantano cantano lo scopo dei serafini è stare accanto a Cristo a Dio scusatemi ed evocare totalmente la sua grandezza i cherubini che sono indicati con delle con delle ali un po' strane una sotto e poi sopra con la testa di leone qua la testa una testa umana che guarda verso est praticamente quelli hanno il compito di concretizzare quello che viene idealizzato dai serafini cioè i serafini pensano e i cherubini creano oggettivano rendono reale e poi ci sono tutti i facenti funzioni c'è gente che si occupa della politica dei eh di di eleggere i politici gli angeli che eleggono i politici che servono per gestire un popolo e poi in sotto e sotto ci sono gli arcangeli ma gli arcangeli attenzione né perché stanno sotto sono i più bassi in grado sono quelli più alti i più potenti ma perché stanno sotto perché si devono occupare della creazione di Dio sono come i pubblici ministeri vogliono stare sul campo ok ci sono i giudici ci sono i politici creatori creativi che sono tutti idilliaci gli arcangeli sono gli unici che battono cassa che vanno a vedere dove stanno dove sta il male ok quindi ecco perché sono messi più bassi perché devono guardare la creazione di Dio e poi ci sono gli angeli normali quelli comuni quelli che potete trovare dappertutto no quelli di luce quelli che vengono fatti nei corsi no nei corsi li trovate gli angeli capito e poi no l'esercito l'esercito è diverso sono i grigori l'esercito i grigori sono coloro che non si sono mai visti perché c'è una categoria di angeli che non si è mai vista che non si sa come sono fatti e sta un po sotto i grigori mi sembra che sono coloro che verranno solo quando ci sarà l'apocalisse cioè si vedranno solo in faccia quando ci sarà la battaglia finale fino a quel momento nessuno sa come sono fatti pensate un po i angeli che mandano i politici che sono i migliori sono durante l'elezione sono i più grandi angeli poi gli angeli che mandano i politici che sono mi sembra quelli che si occupano delle virtù giorgio senno luciferino eh sì non posso nascondermi scappare dalla mia natura sì l'aspetto è quello hai ascoltato il mio consiglio ora la luce perfetta grazie grazie per avermi emanato la luce grazie allora giorgio ricordo che siamo nel cali yuga giorgio ricordo che siamo nel cali yuga sono contento di essere nel cali yuga fantastico però quella è un'altra diretta casomai ahiaia e simone scusami scusami simone cosa esistono i vangeli e basta non capisco a per quanto riguarda per quanto riguarda gli apocrifi no ci sono un sacco di scritture interessanti sappiate che sant'ommaso d'aquino ha scritto il tomo più grande nell'universo eh che si chiama la sumba teologica è tutto scritto su tutta la creazione di dio ogni cosa che bella questa bottiglia è una creazione di dio perché ogni cosa viene descritta andate a leggere che è bellissimo poi dategli un esame voglio vedere come come vi esce dove diventate matti magari in latino e allora allora puntata allora desidero farti complimenti perché sei davvero bravo scusami per l'incomprensione tra evocazione e invocazione no 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 per carità però ogni parola è al suo contesto ok se parliamo di magia è un suo contesto se parliamo invece di eh qualcosa riguarda la simbologia le parole hanno altri significati su che cosa chiedevo quale riferimento storico scusami allora simone segreto allora no chiedevo quale riferimento storico o di alta natura sul fattore rh sull'attrazione dei capelli da parte degli elohim allora questo è è un lato eh io non credo al discorso che erano attratti dai capelli ok delle donne questa cosa di essere attratti dai capelli che venivano il velo non perché quando vedevano i capelli non capisci più niente no è che i capelli delle donne emanano ferormoni dicono alcuni antropologi che la donna è fatta un pochettino più bassa per cercare di invoiare l'uomo all'accoppiamento anche la statura di una donna e il fatto che c'è questo disformismo sessuale tra l'uomo e la donna ormai non c'è più perché le donne sono alte quasi quante gli uomini o fosse di più ma in passato la donna era sempre più piccolina dell'uomo perché l'uomo doveva avvicinarsi a capelli che erano ricchi di ferormoni ora immaginatevi degli esseri che hanno delle capacità come i rinne i rigori i detti che avevano dei sensi amplificati che dovevano avvistare tutto e guardare con una super vista super udito super tutto immaginatevi l'odore che potevano emanare le donne perché la natura ha concentrato nei capelli della donna che ci sono tanti motivi sono stati spiegati perché esistono i capelli della donna e sono così lunghi alcuni antropologi hanno scritto delle teorie che sembrano strampalate però sono arrivati all'unica soluzione quale che i capelli della donna oltre emanare ferormoni e fare eccitare l'uomo pensate cosa può accadere invece a un essere che ha un olfatto molto sviluppato ecco perché venivano coperti non perché erano attratti dal pelo della donna ma da dalla concentrazione ferormonica che c'è nei capelli che è diverso quindi quindi quello che sto cercando di dire questo i capelli della donna addirittura sono stati studiati sono stati fatti degli studi su alcune donne alcuni esempi preistorici perché avevano questi capelli lunghi perché dovevano attaccarsi al bambino cioè molti antropologi hanno studiato hanno detto che la come le scimmie tengono il loro bambino la donna in momento di fuggire il bambino si attaccava ai capelli mentre fuggiva quindi hanno fatto questi studi un po strani per carità però sono stati quelli che si sono magari hanno cercato di avvicinarsi alla cosa più logica perché la donna i capelli perché sono infiniti addirittura perché davano questa forma di protezione alla prole che si aggrappava quindi scusate sono collegato soltanto ora se è stata qualche parlando sui vangeli traduzione qualcuno allora e allora quindi wow fanno molto effetto e quello è l'obiettivo era quello l'obiettivo è nasce per una regola antropologica perché la donna ha questa attrattiva nei capelli e poi parliamoci chiaro in alcune donne i capelli sono una cornice anche no del quadro donna sono sono belli no sono molto più belli di quelli dell'uomo quindi è giusto che sia così e detto questo ci sono altre cose no non c'è niente cosa c'è ci possiamo fermare guarda ci sono dei detti siciliani così si innamura di capilli e di denti non si innamura di nenti sì è vero allora se allora se il capello è biondo subito mi chiede ora 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 è partita la la storia dei capelli comunque dai chiudiamola qui non so se ci sono e quindi e sull'rh negativo cosa dirti tutti ci abbiamo l'rh negativo tutti ci abbiamo l'rh poi ci c'era negativo no è una cosa abbastanza complessa riguardante il discorso sull'rh però sappiamo che è sempre stato qualcosa di brutto solamente adesso se è arrivato a curare questo discorso sull'rh riguardante il parto perché molte donne che hanno l'rh negativo avranno avuto sempre complicanze sul parto chi ha che ha provato avere dei figli molto spesso il feto non viene riconosciuto e viene rigettato dalla stessa madre ed è un fattore traumatico oggi per fortuna grazie alla scienza la medicina se è arrivato a non riuscire a non perdere il feto con delle medicine delle cose si può fare quindi grazie alla medicina che va avanti però il fattore rh riguardante questo discorso qua non credo che sia vicino perché molti dicono che l'rh è un fattore alieno che fa parte di un'altra stirpe no io non credo in questo credo che sia solamente una particolarità del nostro sangue che siamo talmente complessi e combinati che penso che sia logico e penso che sia normale che ci siano delle differenze di gruppi sanguigni allora grazie Giorgio questa bella interessante diretta buona serata a te e tutto il gruppo grazie a voi Giorgio hai completamente perso l'accento siculo no assolutamente io ho totalmente l'accento siculo se volete vi posso fare una diretta totalmente in siciliano ma non la capirebbe nessuno il problema è che poi studiando parlando cercando di stare essendo molto lontano dalla Sicilia un po lo perdi ma spero di non perderlo mai perché ci sono affezionato quindi non vorrei far diventare questa diretta un sul fattore biologico io non sono un biologo ho le mie considerazioni sull'rh ma preferisco tenermene niente ci sono novità cari amici allora vi dico tutto queste dirette per chi è interessato iscrivetevi sotto trovate la possibilità di sommensionare il canale sappiate che sta diventando sempre più dura per me portare avanti questo canale perché non monetizza voi potete rivedere questa diretta continuamente senza pubblicità che è la cosa che odio che vi interrompe il cervello non vi fa pensare preferisco lasciarle libere però purtroppo il canale sommensionarlo da parte mia non è facile anche in questo periodo perché non si lavora tantissimo quindi se volete contribuire a portare avanti questo canale con tutte le teorie possibili sotto c'è in descrizione la possibilità di partecipare a tipe dove c'è mettete un euro l'uno e c'è la possibilità di sommensionarmi o c'è la possibilità con paypal di dare un contributo c'è anche la posta pay se volete tutto quello che c'è la possibilità per per continuare a sponsorizzare life new e come vedete tutte queste tematiche io ad agosto non ve l'ho lasciato da soli ho mantenuto la promessa ho portato addirittura delle tematiche per me affascinantissime le potete vedere tutte sul canale youtube dove c'è la playlist io adesso questa sera mi vado a studiare tutta la conferenza che ho domani perché domani parlerò di del proseguo di questa diretta praticamente farò un continuo ok vi ringrazio tutti siete stati gentilissimi e come sempre se ho saltato qualche domanda mi dispiace riscrivetemela cercherò di rispondervi mi sembra che ho saltato quella sulle vibrazioni e la frequenza chiedo scusa ma ne sono arrivate tantissimi allora per quanto riguarda la vibrazione e la frequenza sono due cose totalmente differenti la vibrazione riguarda un punto rispetto alla questione meccanica quindi quando c'è un oscillazione di qualcosa e c'è su un punto di riferimento dove vibra ma riguarda qualcosa di fisico la frequenza è un'interruzione che viene fatta attraverso delle onde quindi la frequenza si interviene a seconda dei quindi non c'entra nulla frequenza di vibrazione quindi sono due cose totalmente diverse quindi l'evento che poi continua a ripetersi che viene fermato all'interno di un'onda quella è una frequenza quando l'evento continua a ripetersi di continuo e là si aprono le solite frequenze quando vedete quelle cose che fanno quello è quindi la vibrazione è una cosa molto spesso riguarda un punto di riferimento rispetto che posso dire un piano e allora un ingegnere dice lì c'è una vibrazione e riguarda qualcosa di più fisico la frequenza è una propagazione allora poche cosa c'è sembri un satiro grazie allora oggi me ne avete dette di ogni incredibile oggi è stata la diretta più meno male che parlavamo di angeli è stata la diretta più violenta che abbia mai assistito incredibile sarà l'influenza di qualcuno ma mai mai stato così lapidato illazionato diritti d'autore una cosa incredibile quindi oggi è stato veramente faticoso non mi fate parlare più di angeli perché vi agguerrite tutti parliamo di moloco parliamo di fantasmi parliamo di alieni che lì siete tutti calmi quando parliamo di angeli non lo so scatta lo schiribizzo però ci sta va benissimo grazie per essere stati così tanti di cuore ci vediamo alla prossima ci vediamo venerdì e parleremo se vi interessa del corrispettivo posto moloc dove si trova dove trovarlo dove dove cacciare questo moloc e dove rendersi consapevoli perché più ne siamo consapevoli e più rimane qui anziché qui ed è più facile da scovare quindi attenzione che sono importanti queste dirette dovete dovete tenerle a mente stiamo facendo un grande lavoro su questo va bene un abbraccio cari amici buonanotte a tutti